... Pierre Beaumarchais, scrittore diplomatico e libertino. Paripossiate aiutarvi. La censura ostacola le nuove commedie, inclusa una delle mie. Hanno pagato un critico per recensirla male e vogliono fermare la sua produzione. Puoi rubare l'articolo prima che venga stampato e far sparire il censore. Soprono le spalle! Soprono le spalle! Soprono le spalle! Oh, 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 oh. PULEN! PUN! Hai visto? Smettila di creare problemi! Cittadino! Chi è? Cittadino! Direi chi li ha d'agitazione! Cittadino! 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 cosa è stato devo schiarirmi la voce Molière. Sous-titrage Société Radio-Canada